ragazzi buongiorno a tutti oggi ancora una volta parliamo di trattamenti in particolare andiamo a parlare di un trattamento biologico ovviamente un trattamento con un materiale un po' particolare sul quale c'è un po' di confusione andiamo a parlare del caolino il caolino cos'è fondamentalmente è una polvere di roccia è un minerale che viene micronizzato di conseguenza viene triturato in maniera molto molto fine in modo da poterlo nebulizzare ha un colore bianco e il vantaggio che ci dà il caolino ovviamente non è sistemico ma è una protezione andiamo a mettere una protezione sulla pianta che ci giova su diversi campi il primo campo andiamo a creare una barriera bianca di conseguenza ci fa da scudo nei confronti dei raggi solari molto forti raggi uv che spesso ci creano bruciature sulle piante in particolare il peperone il peperone il pomodoro in estate tendono sempre a bruciarsi se noi andiamo a dare una bella copertura bianca una schermata andiamo a proteggere il frutto andiamo a proteggere la bacca e andiamo a proteggere le foglie delle piante che sono un po' più vulnerabili agli attacchi dei raggi solari inoltre andiamo a creare una protezione con una roccia come se creassimo un film di roccia all'esterno delle foglie di conseguenza lo andiamo a proteggere anche da tanti insetti in particolare insetti masticatori per esempio la cavolaia ma va bene anche contro la carpocaps infatti lo andremo a mettere sulle mele sopra le mele è chiaro che non è non ha un'affidabilità del 100% però comunque andiamo a dare una protezione contro la cavolaia contro gli afidi anche contro la cimice la cimice fa un buco se noi gli creiamo una copertura di roccia andrà ad avere difficoltà a forare magari poi riesce a trovare il punto dove forare lo stesso comunque non uccide questo qui non è un trattamento abbattente ma è un trattamento di copertura un'altra cosa molto importante che fa il caolino è la schermatura su qualsiasi cosa noi questo lo possiamo utilizzare anche sulla serra se noi mettiamo i pomodori in serra in primavera per anticipare la produzione in estate ci rendiamo conto che in serra poi fa troppo caldo quindi andiamo a nebulizzare tutta la serra con il caolino in modo da andarla a schermare completamente in modo da tenere la temperatura leggermente più bassa leggermente non è che fa freddo un altro campo dove lo uso è per esempio i teli i teli pacciamanti neri perché in estate l'ideale sarebbe utilizzare i teli i pacciamanti bianchi dal momento che il nero attrae il calore e di conseguenza c'è la possibilità che vada a bruciare il colletto delle piante le piantine giovane in particolare cavoli cavolfiori e quant'altro quello che si mette in luglio agosto in questo modo noi andiamo a nebulizzare completamente il telo nero gli andiamo a dare una copertura bianca e in questo modo andremo a proteggere il nero del telo andrà andando così a abbattere leggermente la temperatura evitando quindi quello che vi ho detto prima quindi le scottature del colletto la copertura col caolino asciuga la superficie fogliare di conseguenza se manteniamo in particolare la rugiada che c'è la mattina bagna le foglie con la temperatura fresca si sviluppano i funghi se noi utilizziamo il caolino andiamo a asciugare tenere sempre asciutta la superficie fogliare quindi andiamo a prevenire anche tanti tipi di funghi in particolare sul frutteto allora questo è una busta dell'azienda agribios io utilizzo questa perché non uso tanto però ci sono anche confezioni più piccole vi lascio il link giù nella descrizione in modo che potete andarvelo a vedere per gli strumenti della nebulizzazione dobbiamo utilizzare una pompa a spalla normalissima importante è non avere filtri quindi per esempio la mia pompa a spalla all'interno questo filtro che serve per non fare entrare impurità all'interno dell'ugello va tolto perché altrimenti si ottura subito questo è polvere di roccia non è una roba che si scioglie non si scioglie mai quindi andrebbe a otturarsi sempre utilizzare sempre ugelli in metallo quindi mai utilizzare pompe a spalla o atomizzatore quello che avete con ugelli di plastica perché la polvere di roccia buttata forte col lungo periodo potrebbe corrodere gli ugelli di plastica quindi utilizziamo sempre ugelli di metallo leggermente aperti quindi non teniamolo chiuso per fare la classica nuvola aperta teniamolo leggermente aperto e facciamolo uscire tanto in modo che non si ottura l'ugello perché con questi materiali gli ugelli tendono sempre a otturarsi quindi procediamo alla preparazione dell'intruglio apriamo il nostro bel sacco facciamolo fuori all'esterno sempre perché qua vola polvere dappertutto quindi da dosaggio in etichetta dice 5 kg per 100 litri d'acqua di conseguenza la nostra tannica è da 15 litri quindi metteremo 750 grammi d'acqua di caolino scusate eccoci qua guardate com'è fine e leggera quindi una volta pesato come sempre andiamo a mettere nella tannica un terzo di acqua andiamo a mettere ciò che dobbiamo mettere all'interno in questo caso il caolino questo lo possiamo toccare anche con le mani tanto è polvere di roccia questa non è dannosa in nessun modo per la salute mi sa il caolino di conseguenza possiamo aiutarci con le mani ne mettiamo poco alla volta in modo da evitare di fare un polverone fatto ciò andiamo a riempire con un bel turbine d'acqua bello forte arriviamo a 15 litri ok quindi una volta fatta agitiamo per bene e cerchiamo di tenere sempre in agitazione perché essendo polvere di roccia tenderà a depositarsi quindi resterà acqua pulita sopra e si compatterà tutta sul fondo quindi anche mentre siamo in giro se non abbiamo un atomizzatore di quelli di nuova generazione che riciclano l'aria e riciclano l'acqua in maniera automatica dobbiamo cercare sempre ogni tanto di fermarci e muoverlo perché tenderà andare verso il basso eccoci qua ragazzi quindi su questo telo qui abbiamo delle piantine messe a dimora da poco su un telo pacciamante nero che rischiano di scottarsi fa molto caldo e inoltre questo pak choi cos'è il cavolo cinese pak choi è attaccato dalle altiche quindi utilizzando il nostro caolino andremo a proteggere dal calore del sole dalle altiche e anche dalle cimici che arriveranno quindi apriamo leggermente l'ugello teniamo sempre shakerato e andiamo a nebulizzare ciao Qui abbiamo invece dei cavoli, cavoli, cavolfiori, verdi eccetera. Questi in questo periodo dell'anno, quindi estate, fine estate, iniziano ad essere attaccati da cimici, cavolaia e ovviamente il caldo che scotta il colletto. In particolare le brassicacee sono molto soggette al rischio di bruciatura del colletto, quindi andiamo a nebulizzare il caolino sia sopra la foglia che sotto la foglia, molto importante perché il caolino crea questa patina protettiva e fa anche in modo da ostacolare l'ovide posizione degli insetti, quindi cimici e cavolaia che depongono le uova sotto la foglia, se si trovano questa barriera non riusciranno a deporre l'uovo. Di conseguenza andiamo. Sarà necessario ripetere i trattamenti chiaramente perché quando li andiamo a nebulizzare, adesso vi faccio vedere bene, si formano delle gocce. Andando a ripetere, quando si asciuga, andiamo a ripetere un'altra volta, andiamo a fare una copertura più omogenea, quindi facciamo magari ripetuti trattamenti ravvicinati all'inizio, poi soprattutto dopo le piogge, perché comunque questa barriera fa in modo da far defluire meglio l'acqua, quindi scivola via la gocciolina, però chiaramente un po' di caolino, essendo polvere di roccia, viene dilavato, quindi ripetere subito dopo le piogge. La serra ragazzi, in estate potrebbe essere troppo calda per le verdure che abbiamo messo in primavera. Se abbiamo messo peperoni, melanzane, pomodori in serra, a luglio muoiono all'interno, quindi se noi andiamo a schermare con del caolino, andiamo a tenere la temperatura leggermente più bassa. Sulle giovani mele, le giovani mele sono soggette 1. a scottatura del sole, 2. alla carpocapsia. La carpocapsia è un insetto che fa il foro e depone la larva, quindi se andiamo a mettere questa barriera meccanica, l'insetto farà fatica a forare, o comunque la larva a mangiare la pelle della mela e farà fatica a penetrare all'interno. E poi, come detto prima, andiamo a tenere sempre la superficie delle foglie e dei frutti asciutta, in modo da evitare la proliferazione di funghi. Eccoci qua ragazzi, guardiamo, questo è il risultato sul telo nero, abbiamo fatto diventare praticamente il telo nero bianco, di conseguenza andremo a trarre meno calore e andremo a respingere i raggi solari. La prima passata, se vedete qua sulla foglia, si creano delle mini gocce, di conseguenza per, diciamo, migliorare l'effetto delle gocce andremo a dare una seconda passata, in particolare su verze, cavoli e cavolfiori che hanno delle foglie pruinose, quindi fanno scivolare proprio la goccia, bisognerà fare magari un trattamento in più, in particolare dopo la pioggia. I peperoni in particolare trovano aggiornamento dall'utilizzo del caolino, perché sapete che, come in questo caso, il peperone in estate tende sempre a scottarsi per via dei raggi solari diretti, perché il peperone, essendo vuoto e ricco d'acqua, crea una specie di camera di vapore all'interno e sfoga con una bruciatura in questo modo. Quando il peperone è piccolo e verde e noi iniziamo a fare i trattamenti col caolino, andiamo a schermarlo dai raggi solari, anche le foglie, e di conseguenza eviteremo le bruciature. Un altro frutto che giova molto del caolino è il ciliegio. Il ciliegio, durante la fase di invaiatura in primavera, quindi inizia a diventare giallo, prima di diventare rosso, la ciliegia, il frutto, se andiamo a fare i trattamenti col caolino, andiamo a schermarlo dalla mosca del ciliegio, quindi se vogliamo combattere la mosca del ciliegio possiamo utilizzare il caolino utilizzandolo in maniera molto costante. Inoltre, quando il frutto è maturo, lo andiamo a proteggere dai merli, merli, passeri, eccetera, tutti gli uccelli che di solito si vanno a mangiare le nostre ciliegie, perché essendo tutto bianco, la pianta diventa bianca, quando un uccello passa di fianco non connette più che si tratta di un ciliegio, dice questa non è neanche una pianta, questa è tutta bianca, che cos'è sta roba, non mi fermo neanche e va via e non ci mangia le nostre ciliegie. Ok ragazzi, se va a terra durante la pioggia non c'è nessun problema perché è un materiale inerte, è come se fosse un'argilla fondamentalmente, va nel terreno ed i problemi non ce ne sono. Adesso io però vado avanti a dare il mio caolino e per questo video è tutto, se avete delle domande scrivetemelo nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, un saluto dal contadino Nick.